o codrilli buongiorno oggi ho un quesito per voi nonno faustino lo preferite con dentiera o senza scrivetemelo sotto il video che parte tra 3 2 1 testa di cazzo testa di cazzo corriattori nucleari stronzo mamma dice va piano aprile il portacolo mi butto a lei mi butto che io ci vengo a fare ma come imbecille cromato ma come imbecille cromato ma come imbecille cromato ma sei uno stronzo nucleare con il rivolo con il rivolo no era di piano ma perché ma che perché ma che per chi ha soldi sbagliati